abbiamo un sogno nel cuore vedere il bari in serie a il prima possibile ebbene sì è possibile è possibile perché la classifica non è troppo lunga e l'ottavo posto quota limite per i playoff è raggiungibile allora abbiamo il modena innanzitutto la prossima sfida si può fare secondo me luca gemello acquista gemello a qualsiasi costo questo portiere l'avevo intravisto tra l'altro tra l'altro verrebbe gratis a fine anno potrebbe fare il primo o il secondo in base a come si ammessi io proverei a contattarlo per per l'ingaggio c'è un problema i soldi c'è un piccolo problema e che poi piccolo proviamo così no è purtroppo purtroppo no purtroppo no non abbiamo i soldi clamorosamente non ci stanno i soldi no no non non ci stanno i soldi ed è un peccato perché come vi dicevo poteva essere interessante alessandro malva interessa trasferimento nessuno però però è un buon attaccante io ci proverei ma lui non vuole non non gli interessa particolarmente venire qua a bari allora allora bari modena partita fondamentale per rientrare in corsa per per i playoff allora la squadra c'è perché c'è adam ad amonis posto di scusate perché caprile è nazionale questa cosa però non mi va tanto bene che vuol dire perché questi vanno in nazionale perché vi pare il momento cioè io veramente non ho parole io rimango senza giocatori così però è cioè così è veramente brutta così è veramente brutta tra l'altro il ragazzo mi ha consigliato una cosa che che se trovo il che se tu fai un un pressing a tutto campo anche la difesa si alza quindi non so intanto andiamo così poi se vediamo che va male proviamo a cambiare tattica poi vediamo in base anche a come va come come vi dicevo insomma speriamo bene speriamo bene perché la quadra difensiva sembra che l'abbia trovata però però non non sono convinto al cento per cento non lo sono non lo sono dai ragazzi zero ti rimporta in 30 minuti però è brutto è brutto vero ve lo posso dire diamoci una svegliata perché forse sarebbe il caso forse dai raga dai raga su ma tranquilli con più calma tanto non c'è fretta vero siamo ozzi bella la palla antenucci cosa fa cosa fa antenucci sei divorato un gol già fatto cosa fanno ma ma cos'è ma cos'è antenucci ma tira quella palla dacci una sassata fa qualcosa non sta lì a vabbè io io che sto a far parlare poi non si sa allora primo tempo non mi è piaciuto amareggiato che è la verità perché non stiamo interpretando bene questa partita anche perché abbiamo diversi giocatori che sono in nazionale e che ci limita un pochettino visto che la squadra si basa su questi giocatori per esempio che dira per esempio il portiere cioè ci mancano tanti giocatori oggi e non era proprio il momento ideale per andare in nazionale anche perché ne avremmo bisogno ecco ma vabbè ma vabbè le sfighe capitano sempre a noi dai che sbagliano tira ma no ma no ma no il palo il palo esterno e la palla va fuori in rimessa dal fondo Fiamozzi aveva fatto la bella cosa la porta era quasi libera ha aspettato e ha perso il tempo rega mentalità io a sto punto offensiva perché dobbiamo vincere se no si fa complicata almeno se vogliamo sperare nella serie A si deve vincere a tutti i costi si conferma una difesa abbastanza rinata ma no ma ma no ma no ma no Schiedler mannaggia te no eh la ripartenza no eh la beffa no eh la beffa la beffa quella che non ci voleva un contropiede dato da un gol sbagliato un gol sbagliato e e abbiamo pagato abbiamo pagato metti Zuzek va bene tanto ormai almeno un pareggio no eh mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi però mamma mia non si può non si può siamo undicesimi ora siamo ancora lì eh però ci siamo giocati un un match chiave in malo modo in malo modo io non ho parole non ho parole sono veramente deluso da questa squadra per come oggi si è comportata perché poteva dare di più secondo me bravo Caprile noi intanto cioè ha giocato 12 minuti ma perché allora deve andare là perché per cosa per come cioè non ha senso vabbè allora calendario io organizzerei un amichevole il 27 in modo che arriviamo col Pisa carichi proviamo con il Salisburgo qualche soldino Giagello infortunato ha accettato molto molto bene tra l'altro saremo anche in casa quindi va bene così sì però comunque cioè abbiamo beccato il momento più sfigato in cui ci hanno fregato le i giocatori per andare in nazionale che si poteva si poteva anche consiglio di non offrire un contratto professionistico perché perché no perché no scusate è molto determinato gli manca è vero la 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 finalizzazione gli manca tantissimo questo è vero anche la freddezza è in effetti però quanto ci chiede se ci chiede meno perché no eh andiamo un po' lavorarci su questo ragazzo che potrebbe in realtà essere una sorpresa raga ha accettato perché dovrei privarmene al massimo lo rivendiamo a qualcosa di più che non sarebbe una brutta idea in realtà allora morgan rogers voto 10 seguiamolo costa poco seguiamolo vabbè la mica voglio che cosa ha ha l'esburgo ovviamente andremo a simularla chiaramente perché avremo diversi giocatori non titolari è superbo superbo però l'ingaggio paraonico raga paraonico chi glielo dà i milioni questo l'ingaggio chi glielo dà eh merola ha già un accordo per trasferirsi quindi possiamo farne anche a meno allora cerchiamo gioca per vincere come come sempre poi non è che facciamo diverso 2 a 2 costa di sburgo a me viene a me viene dolce la raga cioè pareggiamo costa di sburgo e perdiamo col modena niente da cavare al modena ok però perché c'è domanda eh no però dai caprile caprile per favore per favore vabbè non mi interessa i migliori 50 giovani ovviamente noi manco uno ne abbiamo io farei così al momento sì sì applica tutto applica non ti preoccupa allora abbiamo un bilancio che è in crisi antonio vacca va avanti appena possibile vabbè visto che segniamo poco io preferirei di nuovo l'attacco perché voto 8 voto 8 era penultimo il bari no quarto ultimo quando l'abbiamo preso su ormai rischiamo di andare in serie A che cavolo voto 10 direi io almeno almeno allora col pisa il pisa sta diciottesimo io vorrei provare a portarla a casa contro un pisa diciottesimo quindi ragazzi dai andateci dentro oggi finalmente torna sia che Dira che Caprile che ci sono mancati anche Michelino c'era mancato moltissimo devo dire quindi abbiamo una marcia in più quest'oggi raga dai bravi no mannaggia mannaggia bravo Terranova non facciamo cavolate perché io quando hanno la palla in difesa io un po' di paura ce l'ho non so voi ma io un po' di paura ce l'ho e infatti una mezza cavolata l'han fa l'han fatta anche due cavolate l'han fatto ma come si fa ma come si fa che è il numero 20 che gliel'ha passata Terranova Terranova dovreste andare a giocare non in serie B ma in serie D che manco c'è più la serie D mannaggia in promozione dovresti giocare già saresti fuori fuori posto dopo una roba del genere dai riapriamola però però Antenucci non corre perché ha un'età raga riusciamo a fare qualcosa di buono contro la diciottesima pareggiamo con Salisburgo eh mi aspetto qualcosa di più a sto punto le simulo tutte così vinciamo la champions cioè noo peccato 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 Delrico è triste guarda Delrico a fine anno tu fai un volo di proporzioni ciclopiche ciclopiche non ti voglio più vedere altro che Giulio Battista ancora peggio fuori gioco ditemi che è fuori gioco voi ditemi che è fuori gioco no 2 a 0 per il Pisa cade una tomba su questo Bari una tomba siamo scandalosi eh mamma mia se siamo scandalosi raga oggi porca miseria dove vai? e dai un po' su Michelino la butta dentro e il Bari accorcia e il Bari accorcia dai 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 su no niente arrabbiato come minimo arrabbiato come minimo dovreste essere indignati per voi stessi sveglia che se no qua la serie B la vediamo la vediamo si la serie B la serie A un po' meno bacca che dirà si però seppure questo si mette a fa i miracoli è complicato eh bello molto molto bene bravo Delrico bravo Delrico bravissimo hai fatto tutto perfettamente senti Delrico io non ti voglio più vedere c'è un modo per mandarti via metti metti ma che no Valz ah no metti Cangiano metti 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 Valz al posto di Vacca no Valz al posto di Giaciello e va bene così andiamo una scossa questa squadra perché veramente non ci siamo veramente deluso ma no ma basta ma basta sto portiere maledetto ci sta a fa sudare sudare vabbè dai ragazzi su Michelino vabbè niente il portiere si è pure compenetrato col palo ma la palla non entra bene così ok che è successo vai però sembrava che il gioco fosse crashato mi ero preso un attimo un colpo questo casino per un cambio lo potrei dire anche dopo comunque non è che c'era fretta costa la difesa mamma mia mamma mia mentalità offensiva ah ah rosso dai dagli sto rosso bravi oh siamo in 10 siamo 11 contro 10 dai si può vincere si può vincere vabbè c'è Antenucci che dorme Cangiano Piamozzi ma che cos'è cos'è mentalità molto offensiva ma non è il momento non è il momento Piamozzi si è mangiato un gol clamoroso clamoroso eh no eh ma rega dai bravo Vasco Zuzek Maita ma cosa fate che dira Antenucci Antenucci se sbagliava questa veramente chiamavo un TSO chiamavo eh dai cazzo scusate il francesismo Estevez bravissimo se è venduto la partita sei venduto bravo Estevez dai 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 che la portiamo a casa dai che la portiamo a casa su e fate un tiro in porta ma siete siete dei maledetti siete dei maledetti no contento amareggiato amareggiato perché scusate contro la diciottesima come faccio a essere felice non si sa per un pareggio c'è un pareggio contro la diciottesima non puoi essere felice se sei felice hai dei problemi mentali mentali quindi quindi va bene andiamo avanti andiamo avanti questo campionato sta diventando una comica le dedico Santander ma che è quello del Bologna? boh può essere no si è lui boh non lo so c'era un Santander che giocava nel Bologna come punta però non so se sia lui non mi ricordo c'è Liento sono molto contento Tariq è molto interessato è superbo addirittura Tariq Tariq ci mancano i soldi però però cioè io se ti faccio una rata annuale ma porca miseria una rata annuale ma porca una rata annuale mi ha detto cursore del pad e ti faccio non so 200.000 così ci stai? 250 250 10.000 maledetti ok solo che adesso il problema è l'ingaggio a parte che non so se ce lo fanno comprare l'ingaggio raga prende una una sega e potrebbe essere un futuro giocatore interessantissimo andrei un po' a risparmiare se si può comunque 500 150 250 5% 8000 2000 raga accettato io spero che me lo facciano comprare se no non vi cosa faccio allora finanze richiesta dirigenza stipendi aumenta dei trasferimenti migliora le strutture vi prego sarebbe un acquisto importante per il futuro per il futuro di questa squadra io ci punterei tanti ecco raga abbiamo preso muaremovic ventenne centrale di ottime prospettive ottime devo dire che a me sembra tanta roba io ragazzi sono contento sono contento male che vada si rivende però secondo me è un buon giocatore è un buon giocatore allora allora calendario ci sono rimaste poche partite e la classifica parla di un bari dodicesimo a 5 punti dall'ottavo posto ormai è qualcosa di veramente complicato si può fare per carità mai dire mai però non lo so non lo so bisogna iniziare a vincere tante partite di fila bisogna veramente fare cose interessanti e purtroppo in questo periodo siamo un po' scarichi e non non mi piace questa cosa non mi piace assai bravo Corbo si è buttato stranissimo oh il vecchio Fulon quanti brutti ricordi alla Fiorentina no eh ci manca solo che fanno un gol così e poi siamo a posto dai ragazzi diamo di più questa si deve vincere per tenere vivo il sogno per tenerlo almeno vivo non dico nient'altro però almeno vivo poi andrà come andrà ma mamma mia mamma mia abbiamo rischiato qua abbiamo veramente rischiato qui si tocca dirlo qui si è un po' rischiato quindi no eh neanche un tiro abbiamo fatto in porta neanche loro però vabbè non vuol dire vabbè rega però dai su soddisfatto amareggiato amareggiato soddisfatto soddisfatto solo te si è soddisfatto io per niente però punti di vista eh punti di vista diamozzi eh no però che dirà ma che ti mangi ultimamente sotto porta che dirà mi è un po' scarico dai ma che è si è maniato un gol veramente clamoroso qui eh antenucci non so cosa stia facendo antenucci antenucci caro antenucci questo questo è ancora peggio di antenucci questa è la sfida alla mediocrità sta partita che è più mediocre che è più scarso ecco si sta pareggiando fantastico sveglia mamma mia mamma mia il palo ci ha salvato ci ha salvato tantissimo ci ha salvato veramente tantissimo che mozzi ma no ma cos'è che dirà no dai che sbagliano no eh mi sa che non sbagliano aia aia e vabbè però c'è e vabbè ma capire cosa fa ve la siete venduta è palese ve la siete venduta va bene così ma comunque siamo scandalosi siamo scandalosi cioè non si può veramente perdere contro le contro due squadre più scarse di noi in classifica e pareggiarne una contro una veramente scarsa cioè non si può abbiamo la squadra non capisco perché non si riesca mamma mia rischiamo anche il 2 a 0 ah ma ah ma a luglio facciamo un ripulisti che non avete idea non avete idea non avete idea ragazzi a luglio facciamo una roba fuori di test un mercato all'insegna del ripulisti generale non mi interessa la squadra va cambiata sta squadra va migliorata perché ora è veramente mediocre guarda 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 caprile fino a un mese fa era un fenomeno ma è diventato un pollo non si sa per come perché 0 ti rimporta il dato è più importante di tutti è 0 ti rimporta ragazzi questo è 0 ti rimporta è proprio il il rendere concreto quanto abbiamo fatto schifo quest'oggi il problema che ora allora ottavo posto possiamo quasi dimenticarlo tranquillamente dobbiamo salvarci ora perché è Palermo diciannovesimo eh se vince Palermo calma cioè non è detto che siamo salvi dobbiamo stare concentrati molto concentrati allora hanno svincolato alcuni giocatori alcuni giovani che se li hanno svincolati un motivo ci sarà vero penso che penso che un motivo c'è un motivo c'è è abbastanza visibile lascerei stare al momento allora Caprile il problema è che il problema è che in questo episodio ha fatto schifo bisogna essere sinceri per quanto mi dispiaccia oggi Caprile ha fatto alcune cose che non mi sono piaciute non mi sono piaciute per niente allora allora la prossima volta avremo innanzitutto avremo avremo vabbè sì vabbè abbiamo già fatto no abbiamo già fatto la prossima volta avremo Palermo Regina e Genoa qui capiremo tantissime cose qui capiremo tantissime cose ma perché la classifica non c'è più non si sa vabbè ragazzi per oggi è tutto è stato un bruttissimo episodio mi ne rendo conto e mi dispiace ci becchiamo alla prossima ciao ragazzi e alla prossima